Fa più rumore un albero che cade che un'intera foresta che cresce. Recita un antico proverbio cinese e di rumore, in questi giorni, nel giardino di Palazzo dal Pozzo della Cesterna se ne è sentito parecchio. Sono infatti iniziati i lavori di abbattimento del faggio gravemente malato che da anni ombreggia il giardino storico della sede aulica di città metropolitana di Torino. La pianta è stata attaccata da un temibile fungo agente di marciume radicale e carie nella zona basale del fusto. Si tratta di un fungo che non può essere contrastato con funghi cidi. Per garantire l'incolumità pubblica e non potendo in alcun modo salvare l'albero la città metropolitana d'intesa con la sovrintendenza che tutela il giardino storico ha deciso l'abbattimento del faggio e alla sua sostituzione.